Avete giocato con i vostri bambini, chattato infinite volte con amici, avete bevuto quattro caffè e mangiato due biscotti, avete aggiornato il vostro pc almeno una volta, avete fatto sette cose di lavoro e ascoltato della buona musica. E' ora di voltare pagina, potete vivere finalmente infinite storie, senza mai uscire di casa. Keep fit, play it all, è arrivato, scoprilo. Grazie per la visione!